Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video, oggi parleremo di come usare questo ingrediente da cucina per far ingrossare il tronco di qualsiasi succulenta. Guarda il video fino alla fine per scoprire come fare e se il nostro lavoro ti piace lascia un like e segui il nostro canale Pianta Succulenta per non perdere i prossimi video. Nel mondo dei blog di giardinaggio, è emerso un problema ricorrente, piante grasse con un fusto debole. Ma c'è una soluzione a portata di mano in ogni cucina, che può rinforzare e addensare il tronco di queste piante. Questo rimedio è sia accessibile che nutriente. Curioso di saperne di più? Continua a guardare il video. Ecco il segreto per ispessire il tronco delle piante grasse. Fonte di calcio. Parliamo dei gusci d'uovo, straordinariamente ricchi di questo minerale fondamentale per lo sviluppo e la robustezza delle piante. Equilibrio dell'umidità. I gusci d'uovo hanno anche la capacità di bilanciare l'umidità nel terreno, riducendo il rischio di annegamento delle radici e prevenendo il marciume. Come procedere? Dopo aver utilizzato le uova, non gettare i gusci. Lavali bene e lasciali asciugare completamente. Poi, sminuzzali finemente. Incorpora questi frammenti di guscio nel terreno delle tue piante grasse, mescolandoli bene. Al momento dell'innaffiatura, dosa con cura l'acqua, i gusci d'uovo contribuiranno a mantenere l'equilibrio idrico. Con il passare del tempo, monitora la crescita delle tue piante grasse. Osserverai un fusto progressivamente più resistente e rigoglioso. Rinforzare il tronco delle piante grasse può risultare semplice grazie a questo metodo naturale, che utilizza un ingrediente comune ma efficace. Prova e vedrai i risultati.